Qui a Bologna partiamo con due corsi, 16-17 marzo, 23-24 marzo, per tecnico d'atletica leggea, tecnico e aiuto tecnico. Il nostro fine come UISP è formarsi delle persone capaci dal punto di vista tecnico, ma che possono trasmettere anche la passione, l'amore che questo sport può lasciare nelle persone. Essendo uno sport individuale, uno sport di fatica, molto spesso ci trovano solamente dei lati molto pesanti, chiamiamoli così, però un buon tecnico, soprattutto nel mondo dei bambini, può far vedere anche una parte di gioco e questo fa sì che l'utente possa innamorarsi veramente a questa disciplina sportiva. Sugli adulti un tecnico serve anche, soprattutto per quegli adulti che si avvicinano al nostro mondo in età matura e avvicinarsi in età matura senza un tecnico può darsi che possa avere anche delle ripercussioni dal punto di vista fisico.